Salvatore di Francia, 49 anni, ha detto qualità presso lo stabilimento FCA di Termoli, consigliere comunale del Partito Democratico. Ruta ha detto no alla candidatura al Parlamento. Ruta ha detto no e con grande dispiacere ho preso la notizia. Ieri mi sono sentito con Roberto e ho cercato di convincerlo, come amico certo, a non mollare perché non accettando è come se avesse mollato per me. Fa parte di una famiglia anche questa, accettare anche il sacrificio nel momento del bisogno. Essere candidato con il Partito Democratico non è un qualcosa che spetta al singolo, ma è una scelta che il Partito fa per determinati soggetti. Però evidentemente le condizioni di agibilità politica fra Frattura e Ruta sono veramente ai minimi livelli. Ma Frattura e Ruta non sono il Partito Democratico, loro sono due persone prestate alla politica per quanto mi riguarda, quello che facciamo noi. Bisogna partire dal pensare che il Partito è a servizio del popolo, non certamente per scelte personali. Frattura che a questo punto c'è a livello di politiche, Liberi Uguali sarà sfidante del Partito Democratico e della coalizione di centro-sinistra. Dal punto di vista delle regionali c'è la possibilità di trovare nuovamente una sintesi? Io me lo auguro, me lo auguro perché Liberi Uguali è un partito di sinistra. Spero che Liberi Uguali tornino ad essere parte integra del centro-sinistra, quindi della nostra coalizione, della coalizione di centro-sinistra per i Molise. Ho letto una notizia su Danilo Leva e non dimostra in questo modo sicurezza e non dimostra affidabilità accettando un seggio protetto in un'altra regione. Tutti dobbiamo essere pronti al sacrificio ma soprattutto a lavorare per questa regione. Il metodo per trovare l'unità alle regionali possono essere le primarie, addirittura si parla di primarie durante la corsa alle politiche, è pensabile questa cosa? Credo di sì, credo che si possa fare. Le primarie poi, l'unico strumento voglio dire che... Non ci sarebbe un cortocircuito, politiche in cui Liberi Uguali e Partito Democratico litigano e primarie in cui... Bisogna decidere da che parte stare. Allora se esiste 5 Stelle grazie alle nostre indecisioni di sinistra o alle indecisioni di destra. Ecco perché esiste 5 Stelle. Dobbiamo una volta per tutte sapere dove correre e con chi correre. Non bisogna pensare alle poltroni ma solo ed esclusivamente al popolo. Che giudizio dà di Renzi negli ultimi nove mesi? Renzi è un bravo politico, poteva fare meglio e sicuramente farà meglio. Non è semplice governare. Certo che è ereditato una situazione di governo con uno spread o meno 500, quindi ha riportato il PIL a 2,7 ed eravamo giù di un punto e mezzo. Ha fatto tanto. PIL è 1,7 però. Sì, comunque ha portato il PIL a 1,7. Quindi c'è comunque una posizione migliorativa con fronte al passato. Certo, bisogna migliorarsi, bisogna fare qualcosa più di sinistra, bisogna fare qualcosa per le pensioni, bisogna fare qualcosa per coloro che lavorano nelle fabbriche, bisogna fare qualcosa in più. E negli stipendi ma soprattutto con i contratti. Job Act è un qualcosa che ha messo in discussione parecchio il governo Renzi. Sì, 23 milioni di lavoratori, il record degli ultimi anni, però sono tutti lavori quasi per la maggioranza precari. Sì, questa è un'invenzione del centro-sinistra all'epoca con il governo D'Alema. Purtroppo poi non siamo riusciti a recuperare. Però c'è lavoro, è vero, il Job Act sicuramente ha dato dei lavori precari, ma ha dato un lavoro. Io mi auguro che il lavoro precario prima o poi non esista più, ma è difficile. Adesso le aziende investono solo se hanno delle garanzie dallo Stato, delle garanzie quelle di poter assumere solo nel momento in cui ci sono dei picchi di produzione. Poi dopo vogliono mandare tutti a casa. Bisogna rivedere molte cose in questo. Il Movimento 5 Stelle secondo lei è solamente una forza antisistema o ci sono degli elementi di qualità in questa proposta politica? Sicuramente degli elementi di qualità ci sono. Sono tutte persone che... Guardi, io le posso dire una cosa. Chiunque si candidi merita rispetto. Accettare una candidatura a tutti i livelli in un partito compreso 5 Stelle merita rispetto. Quello che non capisco è perché sono così aggressivi con la politica attuale. Loro sono i figli di questa politica. Loro hanno sempre votato per altri partiti. Adesso sono contrari a tutto. Sono l'antipolitica. Sembra che tutto quello che si è fatto finora è tutto sbagliato. Sicuramente noi non abbiamo fatto il massimo per poter migliorare le situazioni e in economia e nel lavoro e in altre... Sicuramente in altre... Come giudica la sentenza in appello per Michele Iorio che è stato condannato a sei mesi ed è sotto la spada di Damocle appunto della legge Severino? Con gli effetti che sono scattati. Mi dispiace molto perché è la giustizia che ha deciso. Certo che è un competitore in meno. Di questo mi dispiace. Però si candiderà. Me lo auguro per lui. Gli faccio un grosso in bocca al lupo. Credo che tutti debbano avere la stessa possibilità. Senta, Venitelli o Facciolla come giudica questi due esponenti del Partito Democratico? Facciolla ha fatto un ottimo lavoro in regione ed è una punta di diamante del governo Frattura. La Venitelli ha fatto un buon lavoro a livello nazionale, non ultimo alla demarcazione del demanio. Un grande lavoro che era rimasto all'inizio del Novecento. Lei è riuscita a riportare insomma all'attenzione un problema importante dove vi erano delle persone che rischiavano addirittura di perdere casa per una demarcazione sbagliata o comunque nel tempo. Quindi un voto positivo per tutti e due? Sì, un voto molto positivo. Questa notte sapremo se saranno candidati alle politiche? Io me lo auguro perché sono persone che si sono dedicate a questa regione, alla nazione e hanno dato. Un voto al segretario del Partito Democratico regionale in Molise, La Fanelli? Un 7 ma meriterebbe qualcosa in più, certo, si deve dare da fare. E Frattura? Credo un 8, contrariamente a quelle che pensano gli altri. È il suo candidato ideale per la prossima e poi le regionali? È il mio candidato ideale, certo è che sarà sicuramente il candidato che sceglierà il Partito Democratico e sceglieranno gli altri. Lei sarà candidato alle prossime regionali? Io sono pronto, sono qui, sono a disposizione del Presidente, sono a disposizione del Partito Democratico ma soprattutto sono a disposizione di Termoli, della mia città. Io voglio fare questa esperienza e voglio candidarmi, certo aspetterò che qualcuno condivida questa mia richiesta. Spesso Termoli però candida tanti cavalli di razza che si dividono il patrimonio elettorale del Basso Molise e si eleggono sempre pochi consiglieri. Ci saranno Di Brino e Ferrazzano della partita? Di Brino e Ferrazzano sono i senatori della vecchia politica per quanto mi riguarda il nuovo e altro, nuove idee, il nuovo programma, il nuovo e altro, anche altra gente nuova certamente. Sì, questo è un paese deturpato, noi abbiamo bisogno di un Termolese, uno di Termoli che rappresenta, due di Termoli che rappresentano Termoli. Non possiamo chiedere sempre tirando la giacca agli amministratori regionali dei paesi limitrofi, Termoli non merita. Il collegio unico la spaventa? Il collegio unico? Assolutamente no, è una prova di forza, non mi spaventa nulla in verità, io sono sicuro di quello che il Termolese possa esprimere in futuro. Il Termolese deciderà sicuramente di trovare il suo candidato e nel collegio unico o nei vari collegi elettorali. Per quanto mi riguarda il collegio unico è una grande cosa per il Molise. Quali saranno le tre proposte che metterà l'attenzione dei molisani? Guardi, io ho delle mie idee. Per quanto riguarda l'acqua, l'acqua pubblica, aspettiamo che arrivi l'acqua potabile, ormai ferma da anni, mancano dei soldi del CIP e speriamo di portarle subito. Poi cultura e sport, che qui si sono quasi dimenticati. Io credo che lo sport e la cultura porti i soldi, porti veramente lavoro. Noi abbiamo delle risorse, soprattutto a Termoli, guardi, oltre a delle associazioni sportive abbiamo un gruppo, abbiamo un'orchestra bellissima di 100 elementi. È un'orchestra che si riunisce anche in piccoli buchi pur di sonare ed esprime il massimo del talento. Abbiamo bisogno anche di queste risorse. Poi insomma abbiamo la possibilità di lavorare con il mare, con il demanio. Io lavorerei molto con il demanio. In bocca al lupo per questa avventura elettorale. Grazie.